Ciao da Afsim! Ma Luis Suarez quindi non ha il passaporto comunitario, o meglio la cittadinanza, perché il passaporto è il documento, poi diciamo che semplificando si chiama passaporto quello che in realtà è la cittadinanza comunitaria. E allora come si fa? Che stiamo facendo? Stiamo perdendo tempo? Stiamo provando a prendere un giocatore che non potremo registrare? Qual è la situazione? Si sta parlando di questo da 24 ore, si è partiti con Suarez deve fare l'esame di italiano per prendere la cittadinanza italiana e giù di meme e sarcasmo a Di Marzio che ieri sera ha detto non è un grosso problema, anzi si sta già risolvendo, sarà risolto entro 15 giorni. Stiamo qui 15 giorni a parlare di Luis Suarez e magari poi arriva appunto in ritardo, 15 giorni sono troppi, non è detto che serviranno tutti e 15, servirà qualche giorno già il fatto che oggi, questo venerdì 4 settembre, non agosto, perché ogni tanto sbaglio i mesi e le date, non ci sarà probabilmente nessun annuncio, visto quello che appunto abbiamo appreso fino a ieri sera, significa che comunque la cosa sta slittando. Ma obiettivamente, ammesso che, e sarà evidentemente così, Luis Suarez ha i requisiti, i requisiti per la cittadinanza comunitaria, che sia italiana o spagnola, perché pare che abbia i requisiti per entrambe, ma non abbia effettivamente la cittadinanza, questo chiaramente non può essere un ostacolo ad una trattativa del genere. Cioè, veramente i dirigenti della Juventus sono dei pivelli? Dobbiamo pensare questo? Che si sono messi in una trattativa per andare ad acquistare un calciatore che non avrebbero poi potuto tesserare a tutti gli effetti? Cioè, non credo, onestamente non credo. Non siamo tra l'altro uno di quei club che utilizzano, diciamo, il sotterfugio, l'escamotaggio dei passaporti falsi, magari lo facessimo saremmo anche puniti a dovere, a differenza di altri. A parte questo, io sono convinto, ma proprio per un discorso di umanità e di senso logico, che la Juventus sapesse chiaramente tutte le caratteristiche del calciatore e dell'uomo Luis Suarez, anche a livello burocratico, per cui nel momento in cui si è inserita nella trattativa e lo ha fatto, lo ha fatto sapendo che sarebbe stato acquistabile. Quindi, se ci sono degli intoppi, questi sono stati già risolti o verranno risolti in tempi normali. Magari si sta effettivamente perdendo un po' di tempo per questo. 15 giorni, dicevo, sarebbero troppi, per cui speriamo in ogni caso che non si arrivi a tale distanza temporale, perché dobbiamo iniziare il campionato domenica 20 settembre alle 20.45 a Juventus-Sampdoria. Non per quella data, ma almeno la settimana precedente Luis Suarez deve essere alla continassa ad allenarsi. Anche perché abbiamo Ronaldo con un'infezione a un dito del piede, Di Bala che è tornato ad allenarsi ma non sappiamo quando recupererà e quindi chi gioca lì davanti, Iguain che dovrebbe andare via magari nel frattempo. Magari ci fa anche, tra virgolette, il dispetto di andarsene proprio poco prima di essere obbligatoriamente titolare per necessità nella prima di campionato. Lì sarebbe ridicolo e ve l'ho già detto. Per quanto riguarda la formula non si sta più parlando delle cifre dello stipendio di Luis Suarez, si è più o meno capito che saranno 14-15 milioni lordi, quindi siamo intorno ai 10 milioni netti, però si sta parlando di un possibile indennizzo al Barcellona, perché i rapporti tra Juventus e Barcellona sono da sempre ottimi. Per mantenere gli ottimi rapporti e facilitare l'uscita di Suarez, alleggerendo anche le pretese del calciatore nei confronti del club blaugrana, la Juve sarebbe disposta a versare un piccolo indennizzo con dei bonus. Un po' come ha fatto il Siviglia con Rakitic. Ha preso Rakitic per un milione e mezzo, più mi sembra nove e mezzo o otto e mezzo, nove di bonus. Quindi l'ha pagato poco e poi ci sono dei bonus che magari non vengono necessariamente raggiunti. Quindi ci sono questi dettagli sicuramente da limare, ma io credo che l'attesa a cui stiamo assistendo dipende esclusivamente da questioni burocratiche già ben conosciute, già ben note, quindi Suarez può essere iscritto perché noi abbiamo raggiunto il tetto massimo di calciatori extra UE, ve l'ho già spiegato, poiché ne avevamo più di due già in rosa, ne possiamo tesserare, ne potevamo tesserare massimo due, di cui uno con dei requisiti di presenza in nazionale, Arthur, e l'altro con una sostituzione, cioè mandando via un extra UE già in rosa, McKennie, della questione extra UE che deve essere ceduto, vi parlo tra un attimo, quindi Suarez deve arrivare esclusivamente, necessariamente, come calciatore comunitario e quindi con la cittadinanza che sia italiana o sia spagnola. Questo credo che sia in questo momento il dilemma, il blocco, e non c'entra assolutamente nulla il fatto che eventualmente Messi resti al Barcellona, perché Suarez non è stato defenestrato da Koeman per la questione Messi, ma a prescindere. Insomma, Suarez non resta al Barcellona, questo è assolutamente improbabile, ma vediamo cosa succederà e quando nei prossimi giorni e settimane. Intanto un'altra operazione in uscita, la Juventus l'ha fatta registrare, ve ne avevo già parlato, ma siamo praticamente all'ufficialità. Cristian Romero passerà all'Atalanta. Noi Cristian Romero l'abbiamo praticamente preso per rivenderlo e questa è una cosa che ci può far esaltare questo tipo di trattativa. Ora, sicuramente ci sono i malpensanti, gli anti-juventini, che cominciano a dire che la Juve è la mafia del calcio, che la Juve è la plus-valentus, quello lo dicono anche un po' gli juventini per ironizzare sul mercato che facciamo, e che la Juventus sostanzialmente tira fuori il sangue dalle rape. Ma questo si sapeva perché siamo una società evidentemente capace di valorizzare i calciatori anche con zero presenza. Ecco, la storia di Cristian Romero nella Juve rischia di essere questa. Acquistato per 26 milioni dal Genua a giugno 2019, anche in parziale compensazione dei 16 milioni versati qualche mese prima dal Genua per Sturaro, a titolo definitivo abbiamo fatto plus-valentus anche su Sturaro, è rimasto poi in prestito gratuito per una stagione al Genua, non facendo nulla di straordinario come difensore centrale. Rientrato alla Juventus dal prestito al Genua si sapeva che sarebbe dovuto partire, perché come vi dicevo, ed è il discorso lista e vi parlo anche tra un attimo, non abbiamo la possibilità di mantenere in lista UEFA sia Rugani che Romero, ma neanche in lista Serie A, anzi in lista Serie A forse sì perché Rugani è CTP per la FIGC, per il campionato italiano, per il calcio italiano, per cui uno dei due sarebbe dovuto partire. Evidentemente si è trovata questa offerta per Romero, non si sono trovate altrettante valide offerte per Rugani, per cui adesso Romero non va a titolo definitivo via, tra l'altro è stato acquistato come comunitario, nel senso che avendolo preso dalla Serie A e mandandolo in Serie A non ci libera slot extra UE, questo assolutamente va detto, ma appunto andrà via in prestito biennale con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Intorno ai 23 milioni di euro, stanno ballando le cifre 20-25, ma prima la Juve gli ha rinnovato il contratto prolungandolo da scadenza 2024, in virtù del quinquennale di giugno 2019, a scadenza 2025. Questo cosa significa? Che 26 milioni prezzo di acquisto diviso 5 anni di stipendio, di contratto, fanno 5,2 milioni all'anno di ammortamento, il che significa che a giugno 2020 la Juve ha ammortizzato Cristian Romero a bilancio per 5,2 milioni, quindi il peso residuo è 20,8 milioni. Questi 20,8 milioni adesso bisogna dividerli di nuovo per 5 in virtù del prolungamento del contratto, grosso modo. Per cui abbiamo una nuova quota d'ammortamento, che non è più 5,2, ma è 4,16, quindi abbiamo abbassato anche la quota d'ammortamento di circa un milione, nonostante sto giocatore probabilmente non giocherà mai nella Juventus. Questo significa che nelle prossime due stagioni in cui lui giocherà in prestito all'Atalanta, noi andiamo ad ammortizzarlo per 8,32 milioni, quasi 8 milioni e mezzo. Questa somma tolta ai 28 ci dice che sostanzialmente alla fine di questo prestito, quindi a giugno 2022, per non fare minusvalenza su Romero dovremmo cederlo ad almeno 12 milioni e mezzo. Ma se viene già fissato un diritto di riscatto che può essere obbligo intorno ai 20, 21, 22, 23 milioni, già sappiamo che faremo circa almeno 10 milioni di plusvalenza su Romero. Zero presenze, 10 milioni di plusvalenza. Bene, al di là dei malpensanti, come i Juventini dobbiamo dire e ammettere candidamente che questa qui è un'operazione fenomenale per valorizzare un calciatore, perché io sono convinto che con Gasperini Romero diventerà un grosso, un grande difensore centrale, molto forte, tirerà fuori il meglio, lui sì, il sangue dalle rape e noi niente, ci abbiamo fatto soldi, ma abbiamo fatto da traino, da tramite per la crescita di un calciatore nel campionato italiano e ne beneficeranno due squadre. Il Genoa, che ha già salutato il calciatore e adesso anche l'Atalanta. Ma dobbiamo parlare appunto delle liste, perché io continuo a leggere, ma se vendiamo Chedira, o meglio, se Chedira se ne va, possiamo prendere un altro centrocampista? E se vendiamo Douglas Costa? E che cosa ne diciamo dei terzini? Io sto ancora aspettando Serginio Dest, hai voglia da aspettare. Qui c'è il rischio che non se ne vada neanche De Sciglio e che ci risolviamo a mandare via Luca Pellegrini, ragazzi, ve lo dico. E poi non andiamo tanto a lamentarci, tanto a lamentarci di Paratici e della dirigenza. Sapete che io non sono aziendalista, critico tutti, ma lamentiamoci anche un po' con Sarri, perché De Sciglio a gennaio se ne stava andando, alla volta del Paris Saint Germain, in cambio di Kurzawa. A un certo punto è saltato tutto, non si è mai capito perché. Si sono svegliati e hanno detto, attenzione, ma De Sciglio è italiano e fa entrambe le fasce, perché doveva prendere Kurzawa, che non è italiano e fa solo la fascia sinistra. E quindi saltò quello scambio. A me risulta che forse Sarri qualcosa, cioè a me io penso che Sarri qualcosa l'abbia detta in quel caso per far saltare quella trattativa e siamo rimasti con un De Sciglio ancora una volta inutile, perché è sempre infortunato. A parte De Sciglio, la situazione è che non possiamo, non possiamo acquistare altri. Non è una questione economica, non è solo che la Juve non ha soldi, perché non abbiamo neanche tanti soldi. È un'altra questione che a livello di lista UEFA siamo saturi, siamo saturi. Ve l'ho già spiegato, la Juve, come ogni squadra, deve presentare 17 giocatori, una lista da 17 giocatori senza limitazioni, come minimo. 17 giocatori con cui poi si possono aggiungere 4 calciatori che siano cresciuti nella federazione in Italia. La Juve ne ha anche più di 4, quindi ne registrerà sicuramente 4. E poi, se ce li hai, 4 giocatori cresciuti nel club. In questo momento ne abbiamo 3, Pinsoio, e poi aggregati alla prima squadra, Fagioli e Nicolussi Caviglia. Se arriva a Moiskin, presentiamo la lista da 25. Ma se non arriva a Mois, e se Nicolussi va da qualche parte e Fagioli torna in under 23, per esempio, quei posti non li possiamo occupare, perché possono essere occupati solo da altri CTP. Questo significa che sono già fuori De Sciglio, Chedira, Piazza, Perine, che vabbè ormai praticamente è andato, ed anche Romero esce, ed anche uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. Nel senso che non possiamo immaginare di, ovviamente, Higuain, che viene sostituito da un nuovo attaccante, perciò non consideriamo libero il posto lasciato da Higuain, perché sarà già occupato probabilmente da Luis Suarez. Cosa dobbiamo pensare? Che mandiamo via Kuluseschi? Che mandiamo via Arthur, Bentancur, Dybala, McKennie, che sono appena arrivati? No, chiaramente no. Quindi evidentemente siamo saturi. L'unico modo per acquistare un terzino destro sarà cedere un terzino destro. Quadrato? Non credo proprio. Ha anche rinnovato circa un anno fa. Danilo? E chi se lo prende Danilo? Io credo che ci siano pochissime offerte per Danilo, visto che tra l'altro l'abbia pagato quasi 40 milioni un anno fa, e ha uno stipendio importante. E allora è veramente impossibile fare altri acquisti, anche a centrocampo. Non ci aspettiamo nulla, signori miei. Non aspettatevi nulla. Solo se esce Ramsey, perché Rabiot credo che sia difficile che venga ceduto anche perché è un po' più giovane, allora forse possiamo parlare di un nuovo acquisto a centrocampo. Quindi le uniche trattative che potete aspettarvi, e cui dare credito se le leggete sui giornali, sono nell'ordine di uno scambio Ramsey per un altro centrocampista, e magari Luca Pellegrini per un altro terzino. però deve essere un terzino sinistro a quel punto, perché Alessandro a fare gli straordinari, anche quando ha lutti in famiglia, o è infortunato, onestamente un'altra stagione anche no. Per cui l'unico modo per lavorare seriamente è quello di liberare Danilo, ma ripeto, è molto difficile che trovi delle offerte. Quindi per quanto riguarda la lista UEFA, siamo vincolati e saturi da questo punto di vista, non c'è da aspettarsi altri acquisti, ma c'è da aspettarsi invece un'accessione, forse illustre, che è obbligatoria. Obbligatoria l'accessione di Douglas Costa. Sono arrivato a questa conclusione, magari ho sbagliato i calcoli, ma vi spiego qual è il ragionamento, e perché quasi sicuramente Douglas Costa sarà ceduto in questa finestra di mercato, entro il 5 ottobre, per la questione degli extra UE. Vi ho spiegato, potevamo prendere due calciatori extra UE, e li abbiamo presi, uno è Arthur e l'altro è McKennie, a patto che uno, o magari entrambi, avessero dei requisiti di presenza nella nazionale di categoria, fosse anche la nazionale giovanile, e cioè almeno due presenze negli ultimi 12 mesi, o almeno cinque presenze in totale, entrambi i calciatori ce l'hanno, l'altro deve sostituire un extra UE presente in rosa, cioè devi venderlo. Ma come lo vendi, o meglio, può anche andare a scadenza di contratto, o acquisire la cittadinanza, ma in questo momento non stiamo sentendo notizie di un calciatore extra UE della Juve che acquisisca la cittadinanza, o che vada via svincolato, perché Higuain ha il passaporto francese, quindi non conta. E l'altra maniera è cederlo, ma a titolo definitivo all'estero. A titolo definitivo all'estero. Ora, io ho fatto due conti. Tolti Bentancur, che con ogni probabilità deve restare. Di Bala neanche conta, perché ha il passaporto italiano, quindi a cederlo non andresti a liberare uno slot. McKennie, che è appena arrivato. Alexandro, che dovrebbe restare. Danilo, che non lo prende nessuno. Resta sostanzialmente Douglas Costa. Resta Douglas Costa, a parte Wesley, che sta in under 23, che è un terzino brasiliano, e diciamo che potremmo cedere lui a risolvere il problema. Speriamo. Se cediamo Wesley, sostanzialmente abbiamo risolto il problema, perché anche a livello di under 19 non abbiamo tanti altri extra UE da andare a vendere. C'è qualcuno che è arrivato anche da poco. Parliamo di due o tre calciatori. Veramente poca roba. Quindi le uniche soluzioni sono Wesley o Douglas Costa. Se verrà ceduto, ma all'estero, all'estero, a titolo definitivo Wesley, che magari ne perdiamo completamente il controllo, abbiamo liberato lo slot per McKennie. Altrimenti dovrà essere ceduto Douglas Costa. E attenzione, perché Douglas Costa libererebbe 11 milioni di stipendio lordo a bilancio, sì, ma ha una residua quota d'ammortamento di 22 milioni. Quindi significa che adesso Douglas Costa, con tutti gli infortuni che ha avuto e con i 30 anni che compirà questo mese, non mi ricordo quando, ma a settembre se non sbaglio, dovrebbe essere acquistato da qualcuno all'estero per almeno 30 milioni per fare un minimo di plusvalenza. Sarebbe l'ideale con Douglas Costa fare l'operazione Romero, lo mandi in prestito per due anni e te lo pagano tra due anni, così nel frattempo le quote d'ammortamento si sono abbassate e fai una maggiore plusvalenza anche con un prezzo di cessione un po' più basso. Ma se fai così non liberi lo slot. E allora se Bernardeschi tra l'altro è infortunato e quindi tendenzialmente esce dal mercato, per quanto riguarda la situazione di Douglas Costa c'è quest'ulteriore carico, quest'ulteriore peso sulla sua posizione che lo porterà con ogni probabilità ad essere ceduto. I conti per gli slot extra UE si fanno alla fine, quindi entro il 5 di ottobre la Juve deve vendere un extra UE e averne registrato solo due e stiamo andando in questa direzione. Ma aspettiamoci quindi di una probabile cessione di Douglas Costa a meno che non riusciamo o non decidiamo di piazzare Wesley da qualche parte. Ditemi come la pensate sulla questione passaporto-cittadinanza di Suarez, Cristian Romero e anche il discorso liste e extra UE e naturalmente mettete like a questo video se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per tutti i prossimi contenuti. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!